Siamo presso l'Istituto Benelli di Pesaro, un istituto professionale, ci troviamo qui a presentare un progetto Erasmus che abbiamo realizzato, pensato e stiamo portando avanti con l'interno dell'istituto per la mobilità di 30 persone dell'istituto. Quindi abbiamo pensato di innovare il percorso di questa scuola mandando 30 persone all'estero, 10 in Finlandia, 10 a Malta e 10 in Irlanda per innovare la parte riguardante, la programmazione e l'istruzione. E' importante perché questo progetto, perché abbiamo pensato di dover portare qualcosa di più all'interno dell'istituto, portare qualcosa di innovativo rapportandoci con i partner stranieri che ci poteranno sicuramente un valore aggiunto per poter migliorare la qualità dell'istruzione all'interno dell'istituto. Questo progetto è rivolto essenzialmente al personale, personale di cui sono 24 docenti e 6 personale alta, quindi degli uffici, dell'amministrazione e dell'ufficio tecnico. Sono tutti quanti il personale che avranno a fare un percorso di formazione riguardante le skills di tipo informatico, ma non solo, anche per migliorare quelle che sono le capacità comunicative all'interno della scuola. Questo ci è sembrato importante valorizzarlo andando a prendere quelle che sono le best practices all'interno della comunità europea. Ho deciso di partecipare perché pensavo e penso che sia importante aderire allo spirito di questo progetto, che intende restituire alla scuola un incremento della qualità dell'informazione, della formazione, e che possa avere una buona ricaduta sugli studenti, sicuramente perché poi il fine ultimo è quello, riuscire a dare qualcosa di più ai nostri alunni. E' importante costruire uno spirito europeo e il senso di questo progetto è riuscire a mettere in piedi una rete, un network europeo che fortifichi le competenze sicuramente informatiche, tecnologiche, ma anche linguistiche e rafforzi il senso di comunità europea che è fondamentale, appunto in seconda battuta, poi riuscire a restituire nelle classi, nell'attività di insegnamento che verrà sicuramente arricchita da questa esperienza, che permetterà di incrementare il teamwork, il team building e tutte quelle skills che appunto oggi come oggi sono percepite come assolutamente irrinunciabili ed è una sfida a cui la nostra scuola non si è voluta sottrarre, anzi abbiamo risposto in massa. Noi chiaramente dobbiamo appunto potenziare le competenze digitali, visto appunto promuovere quindi la transizione digitale, ma anche appunto quella ecologica. Certo l'Erasmus è un programma europeo che dà tutte queste opportunità. A dire la verità sono anni che noi comunque partecipiamo a programmi Erasmus, però da diciamo copartecipanti, ecco, da partner. Questa volta invece vogliamo essere dei promotori e attori e abbiamo quindi progettato praticamente questo progetto di cui abbiamo parlato prima cioè educare gli adulti a una cittadinanza europea consapevole che è chiaro che prima di tutto si basa sulla qualificazione e approfondimento delle competenze digitali. Quindi abbiamo appunto fatto questo progetto che è stato appunto approvato dall'Europa e siamo contenti praticamente di illustrarlo e soprattutto appunto che già durante l'estate, praticamente dall'estate in poi all'autunno, già appunto dei gruppi di docenti, tecnici e assistenti amministrativi partiranno per questo programma, andranno appunto in Finlandia, Malta o Dublino. Grazie a tutti.